Il grosso dispiacere è la contesternazione per un incidente sul luogo del lavoro per il quale noi siamo sempre attentissimi a fare in modo che ciò non succeda, come strutture tecniche si danno sempre il massimo impegno per verificare tutte le condizioni di sicurezza. In questo caso è successo qualcosa di imprevedibile che non sappiamo bene a cosa sia dovuto, perché l'operaio che stava nel sottotetto avrebbe dovuto essere messo a lavorare in sicurezza e invece si è andato a posizionare sopra la cannucciaia che non ha tenuto e quindi in conseguenza è precipitato nella sala corsa. Che tipo di lavori erano in corso? Erano in corso dei lavori di riposizionamento di una linea di vita, una linea vita che serve proprio per agganciarsi nel momento in cui si vanno a fare lavori sul tetto, dove in sostanza deve essere sostituita la vecchia linea vita e la nuova. Ci sono delle responsabilità? Le responsabilità queste devono essere accertate dagli organi competenti.